Rekord Rekord sta facendo . No, 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 no Se prima vuoi te basa e poi te rassa non ci capisci niente con una matassa E prima vuoi te vedi e ci confazzisci però ti fecalizza e va tu non ci No, 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 no Perché da ogni riccio ti cacciano un capriccio la donna dice allora voglio no Perché da ogni riccio ti cacciano un capriccio la donna dice allora voglio no La donna dice allora voglio no No, 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 no Per chi da ogni riccio che cacciano, capricci, la donna riccia del lavoro, no? Perché da ogni riccio che cacciano, capricci, la donna riccia del lavoro, no? Non è un oggetto, non è un po' della不了ina Allora, sì Pi ti ti